Dopo due anni tra mascherine chirurgiche e tamponi, il paese di Montecchio torna a mascherarsi d'allegria nel giorno del suo carnevale. Una vera e propria festa a quella che popolerà la frazione di Vallefoglie nel pomeriggio di domenica 19 febbraio, tra carri, dolciumi, sfilate e tanto entusiasmo per il ritorno di questo storico appuntamento. Quello di Montecchio è un carnevale atipico, promosso da sempre dalla comunità parrocchiale proloco, capace di coinvolgere circa 300 alunni tra elementari, medi e superiori e contando sul lavoro e creatività dei genitori per la costruzione dei carri. La gente aveva veramente voglia di rimettersi in gioco perché questi due anni hanno veramente tirato il freno e adesso si sono lanciatissimi i gruppi di genitori che fanno il carro per i loro figli, è una cosa molto bella. Ogni annata fa il suo carro, un impegno veramente imponente di forze, di tempo, però anche fatto con molto spirito gioioso. Dalle 14.30 il Carnevale di Montecchio scenderà in strada percorrendo un giro ad anello tra diverse tappe. Da Piazza della Repubblica, via 25 Aprile, via Fratelli Cervi, passando per la Chiesa e via dell'Indipendenza. Un giro in cui non mancherà l'abbondanza di caramelle dolci che verranno lanciati dall'alto dei carri, che per questa edizione saranno 5 seguiti da quattro sfilate. Le sfilate sono i bambini piccoli e Casa di Oz, quindi prima, seconda, terza elementare, più la Casa di Oz che è un'associazione che si occupa di Baskin e siamo molto contenti di averlo quest'anno con noi. Poi c'è la quarta che fa Far West, la quinta elementare, la mia classe che fa Mercoledì Adams nella serie di Netflix, quindi Nevermore Academy, la prima Super Mario Bros e la seconda media Avatar 2 e poi l'ultimo carro che sono la terza media più tutte le superiori che vuol salire, la Casa di Carta, quindi un carnevale molto aggiornato. Uno spirito genuino e festoso, quello che storicamente contraddistingue il carnevale di Montecchio, che sì, è promosso dalla comunità parrocchiale, ma che in realtà coinvolge anche chi non è credente il catechismo non lo frequenta. Quello in programma per domenica 19 è il frutto di un lavoro di circa tre mesi coordinato da Francesca Donati e supportato dall'aiuto economico di cittadinanza e attività commerciali. Questa è la parte fondamentale perché senza di questo non si può muovere il carnevale, donazioni e premi, perché abbiamo una lotteria cui la gente dona i premi per fare i premi della lotteria e anche donazioni da tutti i negozianti, gente e anche i genitori partecipano in piccola parte a questo carnevale.